Di Erksen porta l'Inter in semifinale di Coppa Italia Inter batte 2-1 il Milan Meritatissimo Secondo tempo stradominato per l'Inter Partita subito che inizia con un gol del Milan con Ibrahimovic Poi a fine primo tempo c'è stata una rissa tra Lukaku e Ibra Scrivevi 4 altri commenti secondo voi che aveva ragione E poi mi sembra che aveva segnato poi dell'Inter non mi ricordo Che aveva segnato Lukaku Lukaku sul rigore segna traversa e gol di Lukaku Quindi 1-1 Poi 10 minuti di recupero perché si era fatto male l'arbitro Quindi passavano i minuti e hanno dato più minuti di recupero Quindi 10 minuti di recupero E al 96esimo segna Erksen Un gol meraviglioso da punizione Meraviglioso Secondo me io volevo vedere Quando ha segnato Erksen Volevo vedere anche L'esultanza di Conte Perché dopo questo gol Secondo me lo potrebbe mettere anche Zitolare Perché sta portato in semifinale Lo metti ancora all'87esimo Questo vuol dire che lui vuole dimostrare tanto Che lui non se ne vuole andare Che lui vuole restare Che lui vuole giocare Vuole dimostrare a Conte Che non è scarso Che lui vuole giocare Che lui è forte A me Erksen piace tanto Mi fa tanto pena Quando non lo fa giocare Veramente Mi fa tanto pena Come Ferrante Che lui non lo fa quasi mai E vabbè Erksen fortunato E bla 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 Vabbè Iscrivete il canale Se ancora non l'avevi fatto Iscrivete qua sotto nei commenti Secondo voi chi vincerà La Cesi E buonasera La Coppa Italia Secondo me La finale Sarà Inter Juventus Oppure Inter Napoli Secondo me Queste qua Iscrivete il canale Se ancora non l'avete fatto Attivate la campanellina Per non perdervi Nessun altro video Ciao ragazzi Ciao ragazzi